ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con un altro simpatico episodio che vede voi protagonisti voi amici del canale diventati protagonisti di questo video come mandando le vostre collezioni cioè i vostri orologini tutti messi assieme ripresi da un telefono in orizzontale che non duri più di sette minuti e nel quale voi parlate spigliatamente e velocemente tutto questo poi lo fate ve lo mandate a me vedete in sovrappressione che ci sono le istruzioni su come fare le indicazioni poi noi li guardiamo qua insieme facciamo due commenti scopriamo cose vediamo persone facciamo tutte queste robine qua ora prima di guardare i video vi mostro l'orologio del giorno che oggi è un orologio speciale è il mio rolex explorer da 39 mm orologio col quadrante nero opaco orologio che indosso con piacere come si suol dire con piacere è un everyday watch perfetto 39 mm secondo me è la misura perfetta quella 36 non mi sono mai garbati più di tanto e poi sto qua quello con il 369 con il chromalight sopra i numeri 369 perché è uno degli ultimi prodotti nel 2020 se non sbaglio non mi ricordo quando è l'ultimo no 2022 non lo so comunque siamo lì guardiamo il video dai guardiamo il video primo video ciao davide sono davide anch'io e finalmente riesco a mandarti la mia collezione completamente costituita anche perché diversi anni fa quando ti mandai il primo video era nata proprio tutto in una maniera e adesso diciamo sbocciata allora partiamo subito con qualche orologino da tutti i giorni vai minchia un bellissimo orologino idroconquest terza generazione ero partito col 42 mm dopo ho comprato il 39 perché sta corona qua batte veramente molto facilmente sul sulla mano quindi non è proprio il massimo però bellissimo ora ti hai detto terza generazione ma a me mi viene cioè la prima generazione era fatta così colletta 28 24 modificato la seconda era quella con i numeri arabi tutti a corollario poi è uscita la terza che quella con i numeri 12 69 ma anche con le stanghette insieme ai pallini e poi sta quella quarta quella con la ghiera ceramica io le conterei così un orologino che dà tanta soddisfazione un icon bellissimo questo qua con un colore verde magnifico con tutto il quadrante tapisserie anche questo avevo il 39 poi ho reputato che fosse troppo piccolo e alla fine ho comprato direttamente il 42 perché veramente un orologio meraviglioso ora te hai detto che quello lì è che il quadrante tapisserie ma non è tapisserie perché tapisserie è il quadrante con i rettangoli quadrati con i solchi intorno questo qua invece sono dei tronchi di piramide a tronco di piramide capito claude pari si chiama nomos bellissimo nomos club ho scelto questa colorazione un po particolare un attimino per differenziare un po tutti gli altri orologi bellissima misura 38 mm tanta roba carica manuale è un orologio molto interessante veramente bello c'è le sue soddisfazioni ogni giorno e soprattutto è anche molto preciso tudor prince crono dopo gli anni 2000 40 mm lo sto utilizzando da circa 10 giorni ha perso 20 secondi nell'arco di questi 10 giorni proprio 20 secondi 10 giorni due secondi al giorno cioè vi complica a volte vi complicano la vita c'è quello che arriva vinci mi perde un minuto al mese mi tocca fare dei calcoli un minuto è un minuto preciso 60 65 55 in 30 giorni fai i calcoli e dite subito no il metro di misura i secondi del giorno lo scarto giornaliero no tanta tanta soddisfazione un po più conosciuto zelite il primero stupendo io appena ho visto questo orologio me ne sono innamorato e ovviamente c'ho anche il suo bracciale ma ho preferito mettergli questo cinturino qua un grigio topo così per intonarsi di più sul quadrante è bello anche c'è veramente un orologio magnifico bello bello anche cinturino fondella vista stupendo penso che è un orologio che se possibile tutti dovrebbero avere in collezione perché veramente meraviglioso andiamo a una bellissima limited bretling and with questa è una serie particolarmente una serie limitata perché sono solo 100 pezzi mondo sono riuscito ad averlo il 32 di 100 un orologio abbastanza importante massiccio ma su un polso da 18 centimetri e mezzo fa la sua figura poi è particolare anche perché ha questo quadrante panna e carino con la scritta in rosso della serie limited passiamo magari a qualche vintagino questo bellissimo lanco questo l'ho preso recentemente ci sono ancora studiando sopra non l'ho mai visto non ne ho trovati due uguali è un placato oro la cassa è la sua la colonna non è logata ma non penso che in questi anni logavano la colonna è diversa non lo vedi quella è stata cambiata il quadrante mi è piaciuto tantissimo il quadrante è suo non è ristampato veramente unico nel suo genere bello mi piace anche un po bordeaux ci studierò bello comunque ti faccio vedere questo bellissimo constellation anni 70 65 34 mm tutto coevo originale gli ho messo questo cinturino qua che così per fare un po un connubio dell'oro ma forse penso che lo cambierò però molto elegante molto bello ci piacevole ma non proprio da tutti i giorni data la sua venerante età passiamo a qualche meraviglioso zenith questo penso che lo apprezzerei molto e certo questo penso che sia un orologio abbastanza unico nel suo genere non ne ho mai visto uno uguale è un afp praticamente 36000 artennanze e tutto quanto originale dal quadrante non ristampato monta un calibro 406 per la complicazione giorno e data la sfera dei secondi la trovo stupenda bellino questo piccolo rombo in nero sì sì tutto quanto in oro poi gli ho abbinato questo cinturino blu cocco con la sua fibia sempre in oro ma veramente un orologio meraviglioso 30 ascolta io ho visto che la fibia è un tipo di logo e la corona un altro tipo di logo secondo me non sono coeve hai detto che tutto coevo non sono coeve nel senso che quello che è sulla sulla fibia se non sbaglio lo fa lo facevano negli anni settanta e quello che è sulla corona lo facevano prima comunque non sono non sono non sono compatibili non sono coerenti tra loro 5 mm elegantissimi anche questo penso che lo conosci bellissime litte 670 sempre anni 80 questo con il premiato calibro 670 con suo bracciale originale sottile anche sul cinturino con la sua fibia bello questo qua anche con tutto il suo sette garanzia orologio stupendo elegantissimo anche con questa particolarità del quadrante argente con tutta quanta questa lavorazione bellissimo poi allora passiamo a qualche classicone classico dei just bello 1601 il primo orologio che comprai il primo ora mi sono dimenticato di dare top a tanti altri orologi prima proprio perché sono preso da guardarli ho dimenticato i top e top e top ragazzi tanto lo vedete anche voi che sono tutti belli orologi primissimo ormai qualche anno fa plexi acciaio oro bello poi con anche il raro quadrante sigma e quindi con sfere indici in oro 18 siccome mi piaceva questo dei just sono riuscito a comprare anche questo questo qua è nuovo ovviamente 40 mm anche se dichiarati 41 ma lo conosci molto bene se ce l'hai anche tu un orologio veramente incantevole bello elegante e anche sfarzoso per terminare davide allora ti faccio vedere due gioielli della mia collezione che ci tengo veramente tanto che sono questi due parlando di vintage oppela li presento allora sono un bellissimo calibro 3 20 bello tutto originale quadrante cassa vetro plexi e corona il suo bellissimo bracciale chicchi di riso e tutto quanto il suo corredo originale un pezzo veramente più unico che raro un orologio bellissimo che anche molto delicato infatti lo tengo più da esposizione che da metterlo e poi un gioiello perpetuo del calendar jager lecout bellissimo quadrante panna complicato il pointer detto per le per la data la notte giorno e mese stupendo orologio meraviglioso elegantissime poi con tutto quanto il suo corredo è una meraviglia davide allora ti saluto sono di non essere stato troppo lungo e un grande saluto e dimmi cosa potrebbe mancarmi diciamo la mia collezione dai dammi un consiglio ciao ma che consiglio ti do cosa ti potrebbe mancare cioè allora se vogliamo metterci lì e viene fuori una sfilza di roba che manca ma non è ma non è nemmeno da dire cioè non è che bisogna ragionare sul fatto cosa mi manca le collezioni non si ragionano sul fatto cosa mi manca perché sennò ti manca tutto il resto del mondo cosa vorrei cosa mi piacerebbe avere quella cosa particolare poi te lo vengo a dire a te che le cose particolari hai saputo andarle a scegliere ragazzi e poi a certo punto ho smesso anche di dare dopo mi sono dimenticato poi ho smesso detto cosa tutti i top è una collezione di orologi completamente cioè sopra cioè sopra 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 tante altre collezioni quasi dico è tanta roba no mi veniva da dire da ricchi ma in realtà non è da ricchi è proprio una collezione da gente da persona che ci sa la persona appassionata che sa che a gusto cosa ti manca ora concentrandomi 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 cosa ti posso dire io vado sempre a finire lì visto che sei anche appassionato no di vintage e neo vintage e quindi non devi necessariamente prenderlo nuovo un bel gg lecutre no visto che ce l'hai già reverso ci starebbe bene perché tutti i orologi di un certo tipo eleganti sì ma tutti tondi un bel orologio di forma ti manca un gg lecutre reverso te ti puoi anche permettere di prenderlo degli anni 2000 2010 quelli particolari di quelle particolari annate lì bello piccolino come si deve io puntare lì comunque chiudo ringraziandoti per averci fatto vedere la collezione che sicuramente sia io che gli amici del canale abbiamo apprezzato e abbiamo imparato anche a conoscere qualche cosina che non si era mai visto dai bravo ciao davide ciao il canale amico sono riccardo ho 22 anni qui con me c'è domenico 21 siamo tre amici legati alla passione degli orologi veniamo dalla calabria e oggi volevo mostrarti parte della nostra collezione come puoi vedere ecco abbiamo tanti orologi però oggi sarà una piccola cernita come puoi vedere abbiamo questo porta chiavi del nostro gruppo di orologi che salutiamo i ragazzi del calabria un watch club calabria un canzo adesso incominciamo gli orologi partirò io e poi mi seguiranno gli altri ragazzi vai bene davide parto subito con questo posto che non ho mai visto qui sul canale nemmeno è un modello chi rova retro è una storia abbastanza particolare in quanto è una riedizione di un di un vostro che era appunto fabbricato nel periodo della seconda vera mondiale quindi armata rossa quando la posto che si chiamava ancora cristo cristo polma ecco ed è una bellissima riedizione stiamo parlando di un orologio di più di 43 mm di diametro casse però per il mio polso da ben 21 cm di disconferenza insomma va più che bene va bene va bene molto bene anche il fondello somma non c'è un bellum non c'è un bellum nulla di che però ecco volevo farlo conoscere agli amici del canale fatto bene tanto visto hai fatto bene bene continuiamo subito vai con un altro ben pezzo del pezzo della mia collezione quale sono molto affezionato sì questo splendido omega constellation 1971 bello 1.001 davvero un orologio bellissimo questo orologio apparteneva all'amico domenico qui presente quindi abbiamo deciso di fare questo scambio con un altro omega che lui non possiede più è stato sacrificato nulla è davvero un orologio bellissimo bracciale integrale originale e c'è un nuovo euro altrimenti ci ci rimproveri e devo dire che mi sta anche abbastanza bene e sì bene passiamo al prossimo pezzo vai arrivato da poco nonché appena tornato al piccolo restauro piccola revisione è ultra chrome top questo bellissimo long jean ultra chrome 36.000 alternanze calibro 431 ed è un prima serie come possiamo vedere dalla lunetta e anche dalla lancetta dei minuti che non è e di un arancione un attimo più tenue ho messo questo cinturino nato che secondo me è molto carino è anche un attimino più giovanile e poi riprende benissimo la lancetta dei minuti quindi sono molto soddisfatto un pezzo di storia come puoi vedere la cassa è stata restaurata direi molto bene ovviamente anche la revisione del movimento ti faccio vedere il fondello con il famoso logo dell'ultra grano ecco lì o l'altro orologio davvero spettacolare purtroppo è un po piccolino per me nonostante sia un quante a due millimetri però il lag to lag davvero ridotto davvero soddisfatto di questo pezzo c'è il polso da 21 c'è il polso da 21 eccolo qui poi si è pulito bene adesso passiamo con i pezzi dei pro degli altri ragazzi ti saluto ciao davide io sono gabriele e ora ti mostro i miei orologi oggi partiamo subito con diciamo il primo pezzo che ho preso vintage preso in un mercatino a malta molto carino anni 70 anche questo qua ha restaurato gli ho fatto uscire la cassa cambiare il vetro molto carino simpatico simpatico ma hai sentito dire passa avanti con questo zenith anche questo qua ha fatto rifatto la stati natura tutto quanto pre seconda guerra mondiale quindi del 34 addirittura e con questo particolare segno sul fondello non so se si vede chissà se davide riuscita a scoprire cosa è sì no davide no bracciale anche dell'epoca preso su ebay ma siamo sicuri ciao davide infine ci sono io domenico dove iniziare la rapida carrellata dei tre orologi con questo del bana che è l'orologio è stato l'orologio di mio nonno che l'ha utilizzato per più di diciamo 60 anni un orologio della dell'inizio degli anni 40 un del bana e cassa cassa placata che è stata diciamo lucidata si sono persi un po le incisioni dietro è molto un venus 175 ha preso una patina diciamo molto importante che però lo rende certo millimetri c'è un polso da bambina dell'asilo però da 16 millimetri circa da 16 centimetri però è non non è male sta bene detto al polso e soprattutto la storia di questo orologio la particolarità è che era al polso di un soldato durante la seconda guerra mondiale poi diciamo è caduto è un ragazzo del paese di mio nonno insomma campato con la vendita degli orologi che trovava sul campo di battaglia e questo qui lo compro mio nonno diciamo ha una storia un po macabra però storia si fa indossare lo stesso nonostante tutto magari ci si tocca un po e poi poi un orologio che viene direttamente dai primi anni 70 a con cui poi farò un confronto anche con l'altro dell'amico riccardo è un omega costellation mille uno complimenti per l'unghia del mignolo respunzionante così proprio quella da classico è proprio quando uno dice mamma mia mamma mia con la sua bella fibbietta originale brevettata da omega e non so se si notano i riflessi della della cassa che diciamo sembra essere un tutt'uno con il quadrante alla stessa satinatura devo dire precisissimo lo utilizzo tutti i giorni per ora come every day watch ho fatto realizzare questo questo cinturino in alligatore nero sulle specifiche del cinturino originale l'effetto è perfetto diciamo superbo infatti anche al polso mi sta mi sta molto bene e soprattutto è bello fare il confronto con diciamo la la sua controfigura braccialata e entrambi bellissimi e infine ti lascio con un classico a cui diciamo ho dato una nota un po più racing con questo quadrante con questo cinturino rally dove ci ho anche messo la fibbietta originale uno zenith cento cento quarantasei in oro giallo in condizioni belle discrete e il quadrante c'è qualche segnetto ma nulla di particolare e 35 millimetri e uno spettacolo 35 naturalmente la corona originale con la stella a quattro punte zenith bene davide questi sono tutti i nostri orologi va bene per ora posati su questo splendido venire dei rolly stones e nulla ti volevamo ringraziare spero che questo video ti sia piaciuto salutiamo di nuovo i ragazzi della calabria cvc e nulla come disse ruggiero in un sacco bello love 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 calabrian watch club international va bene la cosa curiosa è tre ragazzi di intorno ai 21 anni nei loro primi 21 anni che sono amanti solamente di orologi vintage per lo meno per quello che mi hai dato di vedere che ci è dato di vedere qua abbiamo visto solamente orologi vintage questa è una particolarità da tenere presente non sono solo amanti non sono solo quelli che vanno a mercatini a comprarli cioè c'è un po anche speso dei soldi per restaurarli sistemare di farsi fare un cinturino artigianale di quel tipo lì è costato un botto sicuramente cioè gente che ha voglia di continuare a far vivere lo spirito degli orologi vintage una volta poi addirittura alcuni prima prima della seconda guerra mondiale risaicolo ci sono anche delle storie dietro interessanti quali macabra non è macabra cioè è storia stiamo parlando di storia come parleremmo di ormai della guerra della guerra punica e storia è cristallizzata ok diciamo così comunque complimenti ragazzi ciao davide ciao amici del canale voglio farti questo mio terzo video per vedere come primo orologio quello che mi ha fatto innamorare l'orologeria vai che è un giacquedro monolancetta quadrante in onice nera gli ho dato il top gli do il top l'odore top perché già che drogts calibri insomma no di manufattura automi storia tutto quello che vuoi ma sinceramente a me non piace questo orologio lo dico subito così perché monolancetta cioè poi dietro c'è tu che vuoi te quadrante in onice come ti pare a te già i monolancetta non mi piacciono mi fanno venire mal di testa poi cioè si perde tutta tutta la bellezza che può avere un orologio la si perde in un quadrante così morto vuoto il deserto del sara con una lancetta che gira no proprio zero sfere e indici sfere in oro bianco spera una un'ora e l'altra ci sono dei piccolissimi indici che gli indicano i dieci minuti a un calibro molto molto bello da vedere tutte le lavorazioni fatte sul cambio sono veramente interessanti semplicità in assoluto con monolancetta su 24 ore non sbaglia un centesimo di secondo questo roggio quasi carica con un mezzo giro di corona veramente veramente bello questo bello poi voglio farti vedere un maurice lacroix classico maurice lacroix laico io l'ho preferito verde carino questo roggio qua da tutti i giorni poi andarci al mare puoi portarlo tutti i giorni 200 metri bellino questo maurice lacroix e adesso a tenere libera scafogra io ho preferito quello senza data in quanto è realmente la riedizione del primo scafogra che ha fatto libera molto bello io lo ritengo come diver questo sia master sono i diversi che piacciono di più di tutti sul mercato volevo farti vedere poi un mido milo con la grandata e televisore il classico televisore del mido che ha ripreso il modello vintage molto molto carino da portare un bellissimo orologio anche questo ma volevo farti vedere un orologio che secondo me fa parte già del vintage perché dell'86 e 16 800 della rolex ma questo qua in particolare 16 8 mila in cui lo zero viene viene messo in più sulla cassa perché indicava che era l'inizio diciamo così delle dell'acciaio quello chirurgico che dopo che rolle sta attualmente usando 904 questo submariner per ultimo l'ho fatto vivere un capolavoro dell'orlogeria secondo il mio parere senza corona ore minuti giorno della settimana e post meridia l'arancetta piccoli dove vedi che sono i due due colori rossi sono il sabato e la domenica a sinistra della metà di un indice e l'anti meridiano ad essere il post meridia molto molto bello questo roggio qua leggerissimo in titanio questo qua molto semplice pulito e poi c'è una visualità della visualizzazione dell'ora che immediata veramente veramente bello grazie a tutti ciao alla prossima ciao 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 anche sto qua ultimo è un orologio particolare di qualità di pregio no è però io non lo vorrei non rientra buoni i miei gusti non non me lo vedo sul polso non non resisterei però lo metto via subito perché non mi dà non mi dà emozione mi spiace ma pure avendo un calibro quello che vuoi te ricerca no non mi va però siete fortunati voi che vi piacciono questi orologini qua comunque grazie per avermi dato questa veloce carrellata di orologi come integrazione ai precedenti video ok prossimo ciao a tutti sono davide e vi faccio vedere la mia collezione vai partiamo dall'orologio più vecchio che ho cos'è prima di essere appassionato di orologi e avevo questo orologio qui un imbroglione un brocchio un brocchio che per una non appassionato è l'orologio perfetto non cambi l'ora non cambi pila non cambi data non cambi mai niente devi solo metterlo al polso e basta già poi se ti appassioni di orologi purtroppo non lo metti più partiamo dal primo acquisto da appassionato cos'è cos'è con questo brightling top con questa configurazione qua mi è piaciuto subito tanto super ocean ci piace tanto blu e oro rosso qualità brightling a mio parere molto alta eh sì veramente un bello orologio poi passiamo a questo panerai panerai in carbotec ora carbotec a meno ecco un'altra cosa queste cose non mi piacciono a me l'orologio di solito neri non non mi non mi attraggono più di tanto però dicevo la stessa cosa anche dei panerai no che non mi attraggono più di tanto però panerai non mi piacciono e ora piano piano mi stanno cominciando a piacere mi sta venendo lo scrivizzo sto cominciando a guardare le varie referenze come funziona il mondo panerai mi sto avvicinando in punta di piedi no piano piano questo per dire che io ti dico nero non mi piace oppure gli orologi di prima il mono lancetta non mi piace poi fra un paio d'anni il mono lancetta è l'orologio del futuro hai capito si cambia e si cambia però per ora ora come ora così la cassa nera non rientra tanto nei miei gusti e ora come ora nonostante le dimensioni enormi da da panerai con questo materiale qua devo dire che veramente leggerissimo al polso quasi non si sente un bel orologio particolare piacere ma non è per tutti non è per tutti perché ora in collezione ci sta alla grande ora che mi ha detto che non è per tutti lo voglio passiamo invece in casa omega quella la tokia 2020 edizione dedicata all'olimpia di 2020 con 5 colorazioni questa è quella verde quella che mi piaceva di più unico orologio meccanico che ho manuale sto un orologio che metti veramente in qualunque occasione dalla camicia alla t-shirt sta sempre bene veramente un bellissimo orologio altro che quello in plastica una bestemmia veramente ora te detto l'unico orologio meccanico che ho ok c'è tante tante persone si confondono sul fatto che meccanico uguale a carica manuale no l'orologio meccanico è quello con gli ingranaggi dentro quindi l'orologio meccanico si divide in quello a carica automatica e in quello a carica manuale te volevi dire lì è l'unico orologio a carica manuale che ho abito non è non sono sinonimi meccanico e carica manuale poi rimaniamo in casa omega con questo 007 anche qui in titanio super leggero cinturino spettacolare mi piace da matti mi piace molto anche il fatto che non abbia molti riferimenti al film se uno non lo sa non se ne apparge neanche ma è questo di nuovo un bel pezzo bravo si è un po lento però poi brio 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 passiamo in casa tudor top black bay eros colorazione un po particolare poi a scatti non 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 trovabile non trovabile in giro in giro ce l'hai fatta questo un bel orologio se poi di sta colorazione qua ma piaceva molto però aveva fatto bene a prenderlo diciamo che prediligo orologi che non trovi molto facilmente al polso di altri poi se l'orologio ti piace tanto ti fai andare bene anche questo è andato a cucina a prendere l'altro orologio andiamo in casa mont blanc un top questo orologino qua come diresti tu simpatico simpatico mi è piaciuto per il quadrante il quadrante che riprende il ghiacciaio del monte bianco e sotto la luce da nero diventa diventa bordeaux bordeaux bell'orologio non mi piace certo ma bello poi passiamo a voi merci e bon merci top anche a lui da classico riviera in questa configurazione qua che mi è piaciuto moltissimo bello se non vado amato per i numeri romani è meno io però due solo due bravo ci stanno da mi facciamo passare ma si ma sta che bene che bello è più bello col cinturino che con bracciale sai volevo uno scheletrato da mettere in collezione bravo e mi sono innamorato ecco questo qua è uno di quelli che io non mi piacciono gli scheletrati no ecco questo qua è uno di quelli che mi piacerebbe invece preferisco sempre la versione con quadrante normale tapisserie se non sbaglio no c'hanno zenith usa il logo che si ripete sul quadrante preferisco quello però questo anche questo qua suo perché specie perché il quadrante non è un traliccio quello lì che vedete a formare il quadrante sotto c'è il calibro non è che trasparente con il calibro sotto capito c'è un traliccio è un bel orologio era un marchio che avrei voluto in collezione così preso due piccioni con una fava due piccioni con una fava zenith bravo lo scheletrato bravo dai ce la facciamo dieci minuti secondo ore sei e quello non mi garba tanto un orologio di una qualità pazzesca zenith è uno spettacolo spettacolo e avanti sono innamorato di sto orologio qua certo è uno dei miei preferiti bellissimo poi poi orologio un po meno particolare visto e stravisto sul tuo canale un milione di volte moris la croix moris la croix anche prima l'abbiamo visto qualità prezzo ottima se quello siamo preso questa colorazione antracite con lancette dorate fatto ben ero indeciso tra questo e quello bianco alla fine ha preso questo qua simpatico poi passiamo all'ultimo acquisto cos'è cos'è che ti faccio vedere al polso perché secondo me dal meglio di sé santo cartier santo bello top questo è veramente un gioiello che segnalo bellissimo sono indeciso a me piace un casino questo quadrante blu è stupendo dice anche in santo quasi quasi veramente un bel pezzo numeri romani ma bello bello troppo bello chi se ne frega ma chi se ne frega è boh è boh io ho finito ti ringrazio per il tempo grazie a te ciao davide grazie a te ecco no il discorso dei numeri romani anche a me a un certo punto me ne frega sul santo io li prende lo cartier tank con i numeri romani e anche il gigi e lecoutre sono certi orologi che ci stanno anche bene che il suo è il suo proprio fai il suo come si vuol dire no ora te è una particolarità di tutti i tuoi orologi della tua collezione è che a parte qualcuno come vedi maurice lacroix che ce erano tutti gli altri sono abbastanza originali no anche nell'essere nella scelta del modello come dici te hai preso il seamaster professional hai preso la versione particolare hai preso l'omega speedmaster hai preso la versione tokyo 2020 hai cosa c'avevi il tudor black bay arrows sono tutti particolari che sono riconoscibili questo è una cosa bella il punto negativo è che sei stato melenso cioè proprio quando io dico fate i video spigliati concisi corti proprio ti hai fatto il contrario pause contro pause per dire una frase no questo non sto dicendo per denigrarti lo sto dicendo agli amici che ci guardano a casa di non prendere esempio da questo cioè di non fare pause lunghe di non addormentarsi perché poi ci addormentiamo anche noi ok detto questo la tua collezione è promossissima hai vinto il premio sono orologi che vorrei anch'io sinceramente e ti ringrazio per avermi dato il video basta ho detto tutto se non mi addormento ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fino qua e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti